Il giorno in cui si celebra la fiducia nella vita che vince sono lieto di dire sì alla città e all'arci diocesi di Milano Credo nella forza di pregare insieme Credo nella Pasqua cristiana simbolo universale di una rinascita di cui tutti quanti, credenti e non, abbiamo bisogno Grazie alla musica che coinvolgerà in streaming milioni di mani giunte in tutto il mondo abbracceremo questo cuore pulsante del mondo ferito meravigliosa fucina internazionale che è orgoglio d'Italia La generosa, coraggiosa, propositiva Milano e l'Italia tutta saranno nuovamente prestissimo un modello vincente motore di un rinascimento che tutti auspichiamo sarà una gioia testimoniarlo in Duomo nella festività che evoca il mistero della nascita e della rinascita Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti